La catena di librerie giunti da anni mette a disposizione delle aziende un progetto per promuovere la lettura su tutto il territorio. Una bibliotechina con la possibilità di scegliere una selezione di titoli tra le fasce di età 0,6 e 6,11 anni. Quest'anno la donazione, dal nome regala sul libro, arriva dall'azienda Matipiante e dalla Diff di Masotti ed è rivolta al centro di riabilitazione della Fondazione Mike di Barile. Ringraziamo le aziende che hanno fatto questa donazione anche attraverso la libreria giunti perché in special modo nei ragazzini con disturbi dello spettro o comunque disturbi della comunicazione il fatto di avere dei supporti visivi nell'apprendimento, nella scoperta nel mondo e anche nella socializzazione è un grosso punto di forza. Un'iniziativa che a livello nazionale ha permesso di donare oltre 2 milioni di libri negli ultimi 12 anni a partire dalle biblioteche dell'Aquila ai reparti pediatrici, alle biblioteche cittadine e alle biblioteche scolastiche di tutta Italia. Oggi si inaugura la settimana ufficiale di sensibilità del Mike e quindi è un'occasione ideale direi per questo tipo di cosa. Le due aziende che sono presenti stamattina, che sono la Rife e le Piante Mati, sono aziende che ci sostengono ormai da quando abbiamo cominciato da una decina d'anni. Da circa ormai 10 anni sosteniamo questa donazione che viene fatta dall'Aggiunti. Ogni anno cambiamo, abbiamo dato asili, ospedali e quest'anno è stato deciso di donarla alla Fondazione Mike per sostenere i bambini e dare la possibilità attraverso queste piccole librerie ai bambini di fare attività, di lettura. È un modo anche per dare una mano a questi bambini e alle associazioni che li aiutano e li sostengono. Le Dife sono già circa una decina d'anni che sostiene questo progetto di donazione appunto dei libri, librerie per bambini e siamo contenti appunto e fieri di partecipare e sostenere associazioni come il Mike in questo caso.